Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale. Torniamo in apertura a parlare delle amministrative di Trapani perché il candidato a sindaco di Trapani, Girolamo Fazio, decade dal ballottaggio del prossimo 25 giugno. Non ha presentato la sua lista degli assessori. Allora sentiamo Damiano Scala. Il termine ultimo scadeva oggi alle 14, un foglio bianco senza nomi nella sua eventuale lista di assessori. Un atto doveroso in vista delle elezioni del 25 giugno. Girolamo Fazio viene quindi definitivamente escluso dal ballottaggio che lo vedeva contrapposto a Pietro Savona per la carica a sindaco di Trapani. Niente di nuovo perché già martedì l'ex candidato sostenuto da liste civiche e dall'Udc in conferenza stampa aveva lanciato l'appello ai cittadini di non votarlo perché è coinvolto nell'inchiesta di Mare Nostrum con le accuse di corruzione e traffico di influenze. Il candidato del PD Savona, al contrario del suo avversario, ha la lista degli assessori che comporranno la giunta alla quasi ultimata con Giuseppe Scalabrina all'urbanistica e non sia da Gabriele al bilancio. Accanto a loro Nini Polizzi all'ambiente e Ignazia Bartolini ai servizi sociali. Per ricoprire la carica di primo cittadino Savona avrà bisogno di un'affluenza alle urne che superi il 50% degli aventi diritto. Non solo. Da queste dovrà uscire il 25% delle preferenze. In caso di mancata elezione del sindaco l'amministrazione sarebbe guidata da un commissario mentre resterebbe in carica il vecchio consiglio comunale. Cambierebbe soltanto il sistema di attribuzione dei seggi. Non più il 60% alla coalizione vincente e restante 40% all'opposizione ma la suddivisione delle poltrone secondo il sistema proporzionale puro. Un'ipotesi non certo remota visto che lo scorso 11 giugno alle urne si recò quasi il 59% dei trapanesi con Savona che ottenne meno di 9.000 voti pari al 26,27% dei favori. Non ho intenzione, spiega Savona in una nota di ritirarmi per la responsabilità di qualcuno che sta giocando con la città. Lancio un appello ai trapanesi affinché non facciano precipitare l'amministrazione inoltre un anno di commissariamento che produrrebbe effetti devastanti per il territorio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale ma cambiamo argomento. Un 25enne russo Nikita Gromokov originario di Mosca ma che ha anche passaporto italiano è stato fermato dai carabinieri nell'ambito delle indagini sulla morte di Angelo Leonardi di 61 anni deceduto in ospedale per un infarto due ore dopo essere stato appestato vicino alla stazione ferroviaria di Acireale sentiamo Giorgia Mosca Lo ha appestato a sangue lunedì scorso dopo una discussione accesa perché convinto che aveva rubato il portafoglio alla sua compagna Nikita Gromokov russo di 25 anni ha incontrato per caso Giovanni Leonardi il tassista di 61 anni morto pochi giorni fa all'ospedale di Acireale per un arresto cardiocircolatorio per lui era l'arresa dei conti doveva vendicarsi le telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione hanno ripreso l'aggressione incastrando il ragazzo che è stato arrestato dai carabinieri di Acireale ora Nikita Gromokov deve rispondere di omicidio preterintenzionale aggravato subito dopo la morte di Leonardi che ha avuto due infarti consecutivi sono iniziate le indagini coordinate dalla procura di Catania e attraverso anche le dichiarazioni di alcuni testimoni gli investigatori sono riusciti a ricostruire la lite e dunque il pestaggio Gromokov negli istanti subito successivi all'aggressione insieme con la fidanzata e un'amica ha preso il treno e si è diretto a Milazzo in provincia di Messina dove abita e proprio qui è stato arrestato tutti e tre sono stati portati in caserma a Catania e il 25enne è stato fermato e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza sequestro di beni a Vincenzo Graziano i carabinieri di Palermo insieme con la sezione di misure e prevenzione del Tribunale di Palermo hanno disposto il sequestro dei beni tra Palermo e Udina al bosso dell'Acqua Santa per oltre 30 milioni di euro sentiamo Roberto Chifari i carabinieri di Palermo hanno inferto un duro colpo alla mafia è stato eseguito un provvedimento di confisca di beni per oltre 30 milioni di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo nei confronti di Vincenzo Graziano 66 anni della famiglia mafiosa del quartiere Acqua Santa arrestato nel 2008 nell'operazione Addio Pizzo e nel 2014 nell'operazione Apocalisse Graziano è un personaggio noto alle forze dell'ordine i beni in suo possesso sono il frutto degli affari degli ultimi 30 anni a Cosa Nostra non è la prima volta che Graziano finisce sotto la lente di ingrandimento delle misure di prevenzione otto anni fa c'era stato un provvedimento di sequestro di beni tra Palermo e la provincia di Udine oggi sono stati confiscati il capitale sociale i beni della SRL con sede a Palermo FG Costruzioni MG Costruzioni e Costruzioni Generali confiscati anche tre magazzini un garage tre abitazioni a pezzamenti di terreni a Palermo e a Trabiglia un'abitazione a Cinisi a pochi passi dallo scalo aeroportuale palermitano otto autorimesse otto abitazioni e due appartamenti a Martignacco in provincia di Udine e ancora due moto un'imbarcazione alla quota di un'imbarcazione e 30 rapporti bancari con diverse migliaia di euro e andiamo a Siracusa avrebbe chiesto mazzette in cambio di sconti sulle sanzioni con l'accusa di concussione è stato arrestato un ispettore addetto al servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro all'uomo e ai domiciliari Damiano Scala ancora avrebbe taglieggiato gli imprenditori del Siracusano da Ferlar Sortino passando per Melilli spezionava i cantieri edili riscontrando irregolarità di ogni tipo multe per centinaia di migliaia di euro che potevano subire un sensibile sconto ma solo in caso di regali o mazzette una tecnica ben consolidata che avrebbe permesso a Giuseppe Messina 60 anni ispettore addetto al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di accumulare notevoli quantità di denaro un giro di soldi finito nel mirino dei carabinieri di Siracusa che hanno ricostruito cantiere per cantiere i movimenti del dipendente dell'Asp dalle ricostruzioni durate un anno sono quattro i cantieri monitorati dagli inquirenti a Melilli Messina avrebbe chiesto una mazzetta da 500 euro mentre a Ferla l'uomo era disposto a chiudere un occhio in cambio di un attrezzo per il bricolage il sessantenne adesso è agli arresti domiciliari con l'accusa di concussione e in attesa del processo andiamo avanti l'Asp di Enna è stata condannata a risarcire i parenti di un tecnico radiologo dell'ospedale di Nicosia nell'Ennese la Corte di Cassazione ha riconosciuto il superlavoro come causa di morte sentiamo Giuseppe Ruberto è morto a causa del superlavoro la Corte di Cassazione si è pronunciata e ha condannato l'Asp di Enna a risarcire gli eredi del tecnico radiologo dipendente dell'ospedale Basilotta di Nicosia in provincia di Enna lì c'erano costanti carenze di organico che avrebbero sottoposto Ruberto ad uno stress eccessivo non è accettabile riversare sui dipendenti tutto l'onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti scrivono i magistrati di Cassazione devono essere il servizio sanitario e l'Asp di competenza ad organizzare il lavoro in modo da garantire l'utenza e l'integrità psicofisica di medici e operatori sanitari dopo dieci anni di processi dunque arriva la sentenza i turni eccessivi sostenuti negli ospedali dove l'organico è carente possono uccidere Giuseppe Ruberto è morto diversi anni fa e solo adesso è arrivata la sentenza che stabilisce che il decesso è da imputarsi all'Asp di Enna a causa delle condizioni disagiate e del carico il quale per sette anni è stato sottoposto il tecnico radiologo viene dunque riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro sebbene il dipendente non si sia mai lamentato formalmente del carico eccessivo al quale era sottoposto in primo grado il tribunale di Nicosia aveva già condannato l'azienda sanitariennese al pagamento dell'equindennizzo e al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per la perdita della figura familiare la corte d'appello di Galdanissetta aveva accolto il ricorso presentato dai legali dell'Asp annullando la sentenza di primo grado e il legale della famiglia e ricorso in Cassazione che ha riconosciuto con sentenza definitiva il super lavoro come causa di morte del tecnico radiologo e il diritto degli eredi al risarcimento del danno ma l'Asp di Ena non è nuova a queste condanne l'ultima nei confronti di tre chirurghi costretti a fare reperibilità in numero superiore a quelle previste dalla legge e adesso la politica la crisi che non c'è i centristi di Delia tolgono l'appoggio al governo regionale ma Crocetta va avanti per la sua strada e afferma che nonostante il mancato appoggio non c'è motivo di aprire una crisi a quattro mesi dalle elezioni allora sentiamo ancora Roberto Chiferi da Palermo doveva essere il giorno delle dimissioni alla fine non si è dimesso nessuno resta in sella l'assessore alle infrastrutture Giovanni Pistori accusato da Crocetta di frasi omofobe nei suoi confronti resta al suo posto anche Carmenzita Mangano l'assessore regionale alla famiglia dice no a Giampiero Dalia che ha annunciato l'intenzione di non sostenere più Crocetta insomma a Palazzo Orlean regna un momento di incertezza politica che preoccupa tutti tranne il governatore che in un'intervista al quotidiano alla Sicilia ha spiegato non vedo il motivo di aprire questa crisi adesso a poco più di quattro mesi dalle elezioni parole chiare che spiegano la sua posizione dopo l'annuncio dell'uscita della maggioranza e dal governo dei centristi per l'Europa e di alternativa popolare come se non bastasse ora scoppia la grana Pietro Grasso se il presidente del senato dovesse decidere di concorrere alla presidenza e la regione l'attuale governatore non avrebbe nessun problema a sostenere la sua candidatura sarà vero? non si sa in Sicilia per le prossime regionali si vota a novembre il 5 il governatore va avanti per la sua strada anche se nel frattempo perde i pezzi della sua maggioranza e noi voltiamo ancora a pagina continuano gli sbarchi in Sicilia oltre 2.000 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale in 18 distinte operazioni di soccorso oggi sbarchi a Trapani e domani ad agosto l'arrivo di altri 524 migranti Simona D'Urso è giunta alle 8 di questa mattina al monoronciglio di Trapani la nave Fenix con a bordo 412 migranti sono subsahariani tra i quali 58 donne di Q13 in gravidanza 278 uomini e 75 minori non accompagnati ma l'emergenza non è solo umana e numerica sono stati accertati 256 case di scabbia al porto di Trapani è stata attivata la macchina organizzativa con i medici i quali dopo una prima visita hanno decretato che i migranti saranno trasferiti prima all'hot spot di Milo nel Catanese per l'identificazione e infine saranno portati in altre strutture di accoglienza nella provincia di Trapani e nel resto di Italia ma al momento sono circa 2.000 i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale in 18 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera i migranti si trovavano a bordo di 15 gommoni e 3 unità in legno alle operazioni hanno preso parte un'unità navale della Marina Militaria Italiana una nave inserita nel dispositivo Frontex diverse ONG e un mercantile battente bandiera di Singapore ma gli sbarchi in Sicilia non si fermano arriverà domani mattina al porto di Agusta nel Siracusano la nave svedese Triton con a bordo 524 migranti salvati in 4 operazioni di soccorso nel mar Mediterraneo la PRODO è previsto per le 8 e c'è un aggiornamento sono al momento circa 800 i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo centrale in 6 distinti operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera a Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diamo ora la linea alla regia per qualche istante di pubblicità e poi ci ritroviamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale vi aspetto a dopo Grazie a tutti Grazie a tutti. Il piano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la Funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna Funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa? E se sei un tour operator, contattaci. Il comune di Catania ha aperto ufficialmente la stagione balneare. Noi siamo andati a vedere in che condizioni sono le spiagge libere. Siamo alla spiaggia numero 1 della playa di Catania. Come potete vedere dalle immagini, tanta sporcizia. Le docce ancora sono in fase di manutenzione. Stanno per essere montate definitivamente. Ma la lamentela che muovono tutti gli utenti della spiaggia è che, giunti al 17 giugno, quindi a stagione balneare già iniziata e ufficializzata anche dal comune, la spiaggia non può essere in queste condizioni. Abbiamo sentito proprio alcuni bagnanti che sono venuti quest'oggi qui per godersi una giornata di mare. La spiaggia è pessima. Andando questa non è più la spiaggia libere numero 1, ma è la spiaggia abbandonata numero 1. E cosa devo dire? Basta guardarsi. Questa è una spiaggia aperta al pubblico? Non lo so. Fa schifo completamente. E' difficile anche portare il bambino? E' certo, perché è facile di prendere infezioni e cosa. Una sporcizia assoluta. Mangano le docce, molta sporcizia, soprattutto molte alghe, non si può fare nemmeno il bagno o no. Parere unanime, la spiaggia non è in grado di ospitarle tante persone che la occupano. Bottiglie di vetro, erbacce e addirittura escrementi. Questo è lo scenario che si presenta a coloro che vogliono raggiungere la riva. Senza contare i servizi assenti o ancora parziali. Docce e passarelle sono in via di montaggio con gli operai della multiservizi che lavorano, forse un po' troppo a rilento. Meno parole più fatti, questo è il monito mosso dai cittadini al sindaco Bianco che dovrà dare una risposta, si spera, già dal prossimo weekend. Porto di Catania, chiuso per l'accesso alle bici. I ciclisti denunciano alla guardia costiera falso l'annuncio della comune di Catania. Simona Zappalà. Porto di Catania, in estate sarà possibile attraversarlo in bici. L'annuncio era arrivato qualche giorno fa attraverso una nota del comune. Il sindaco Bianco aveva dato disposizioni precise, consentire ai ciclisti il passaggio al porto dal 15 giugno al 15 settembre per poter accedere più agevolmente in zona playa. Letto l'annuncio, alcuni ciclisti hanno provato a raggiungere la playa in bicicletta passando proprio dal porto, ma sono stati subito bloccati dal Vigilantes che non ha permesso loro l'accesso neanche a piedi dal Varco d'Usmet. Porto aperto oggi alle bici, incredibilmente tutto falso, così si legge nel profilo Facebook di Lungomare Liberato. Secondo quanto dichiarato dall'amministrazione, si sarebbe potuto arrivare alla playa passando dal porto, proprio come un tempo, quando ancora non esisteva la nuova sbarra all'interno del porto realizzata a novembre del 2016. Quando però i ciclisti si sono trovati davanti alla sbarra, il Vigilantes ha detto loro di non poter entrare. A questo punto uno di loro ha deciso di sporgere immediatamente una denuncia alla Guardia Costiera per il divieto di accesso anche a piedi. Ma com'è possibile tutto ciò? La risposta è semplice. Il transito all'interno del porto è consentito solo ai turisti che sbarcono dalle navi. L'accesso ai cittadini è vietato e l'unico a poter decidere l'eventuale apertura al pubblico è la Guardia Costiera. Sembra che al momento il Comune abbia inviato solo una richiesta che deve essere valutata con le dovute assunzioni di responsabilità da parte di chi autorizza il transito, perché in quella zona il passaggio è molto pericoloso. Abbiamo già disposto l'apertura di una parte del porto alla città, ha dichiarato il comandante Nunzio Martello, e la sera, come possono vedere tutti, c'è tantissima gente. Ma quella in questione è una zona soggetta a particolari controlli, non è una pista ciclabile. Parte da oggi il dispositivo speciale della Guardia Costiera Mare Sicuro. L'obiettivo è quello di sorvegliare con particolare attenzione le coste del litorale orientale della Sicilia durante il periodo estivo. L'estate sta arrivando e le persone che affolano spiagge e scogliere sono sempre di più. Sole, mare e divertimento, ma certe volte si esagira rischiando di farsi male. E proprio per i più sfortunati o i più imprudenti, gli uomini della Guardia Costiera hanno pensato al dispositivo Mare Sicuro. A partire dalla giornata di oggi, quindi 17 giugno, a inizio su tutto il territorio nazionale, questo dispositivo che viene reiterato ogni anno da parte del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza, della balneazione e della navigazione. Quindi è un dispositivo complesso che vede coinvolta tutto il corpo e nell'ambito della direzione marittima di Catania verranno impiegati circa 150 persone. E per quanto riguarda i consigli ai bagnanti? Molto spesso la sicurezza viene dagli stessi bagnanti, nel senso che evitare comportamenti che possano esporre la persona al pericolo, come allontanarsi eccessivamente dalla riva, soprattutto quando ci si trova in condizioni psicofisiche non ideali, quando non si è degli ottimi nuotatori, evitare di nuotare nei cosiddetti corridoi di lancio oppure superare il limite delle acque sicure contraddistinte dai cavitelli bianchi o la zona destinata esclusivamente alla balneazione. Dall'altro lato ci deve essere un atteggiamento chiaramente corretto e rispettoso dei limiti anche da parte dei diportisti che molto spesso navigano a velocità superiori rispetto a quelle consentite, in particolar modo nell'area marina protetta dove i limiti sono ancora più inferiori. Quindi ci deve essere da parte di tutti la volontà di non esporsi a situazioni di rischio e di pericolo. Voltiamo pagina. Mario Venuti torna nella sua Catania con un concerto che mette in luce la nuova natura pop dell'artista. Ieri sera a Palazzo Platamone un grande spettacolo per il nuovo tour. Sentiamo Simona Zappalà. Dai temi sociologici del tramonto dell'Occidente alla scoperta di un lato più terreno e sensuale, quello del nuovo tour Motore di Vita con il quale Mario Venuti ha incantato il pubblico a Palazzo Platamone a Catania. La vita che si riscopre attraverso la danza, con caduto dalle stelle, nei sapori, nella percezione della musica e dell'amore del viaggio, nell'universo e nella consapevolezza che ognuno di noi ha il potere di dare un carattere al mondo. L'ex de novo ha dato prova del suo carattere forte e deciso, capace di regalare emozioni con la nuova svolta che definisce orgogliosamente pop. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Caballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello che ha curato le percussioni del brano caduto dalle stelle, primo singolo estratto dall'album. Le luci si abbassano, ultima marcorde è un grazie al suo pubblico e, come dice Mario, grazie per gli immensi doni che la vita può donarci. Qualche breve istante di pubblicità e poi ritorniamo in studio con la terza pagina del nostro telegiornale dedicata allo sport. Vi aspetto. Gaetano? Sì, principessa Kate? Ho voglia di una pizza. Pizza. Gourmet. Gourmet. Vado immediatamente. Desideravo una pizza per la principessa Kate. Per la principessa sicuramente una perlage. Bene. La sua pizza per l'age. Vai, vai. Vai. Sempre gentilissimo. ANG Elettrodomestici. La competenza e il vostro risparmio sono il nostro biglietto da visita. Da noi trovi il giusto rapporto qualità-prezzo e i prodotti delle migliori marche. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore, il nostro personale saprà guidarvi nei vostri acquisti con possibilità di pagamento personalizzato. Specialisti nel riscaldamento a pellet e legna. ANG Elettrodomestici. In pieno centro a Catania. In via Luigi Sturzo 158. Parcheggio riservato per i nostri clienti. Vi aspettiamo. E siamo alla pagina sportiva. Ancora trepidazione in casa Rosa Nero. Lunedì dovrebbe essere la giornata giusta per il closing. Ma la risposta che conta è quella di Zamparini. Che dice una vera offerta non l'ho ancora ricevuta. Intanto si teme una penalizzazione per l'inizio del campionato prossimo. Marco Carli. L'offerta per il Palermo c'è o non c'è? Sì ed è di 70 milioni secondo molti. No, secondo Zamparini. Che a TRM spiega. Il gruppo rappresentato da Baccaglini non ha presentato nessuna offerta sino a questo momento. C'è solo un contratto iniziale. Stiamo aspettando, dice l'attuale patron. C'è solo un contratto con le cifre firmato all'origine ma poi non c'è stata un'altra offerta. Zamparini però ammette che sta solo aspettando di chiudere. So che hanno definito a Londra tutti i controlli e che tutto è ok. Adesso sto aspettando la chiusura, conferma l'ex presidente. All'attuale presidente Baccaglini invece tifosi hanno anche inviato una mail. Non vogliamo più Zamparini. Questo il sunto della missiva. Lunedì, considerando anche che sarà la giornata di riapertura delle banche, potrebbe essere il giorno giusto. Ma lo spetto della rottura continua ad alleggiare così come l'ipotesi di una penalizzazione per il prossimo campionato che come rilanciato dall'edizione palermitana della Repubblica di oggi potrebbe arrivare nel caso in cui entro il 26 giugno non venga presentato il prospetto contenente il rapporto fra il patrimonio netto contabile e l'attivo patrimoniale determinato sulla base dei conti aggiornati al semestre giugno-dicembre 2016. Se tutto invece andrà per il verso giusto si ripartirà da Marcello Carli nel ruolo di DS e Massimo Oddo nel ruolo di allenatore. E notizia di questo pomeriggio un comunicato ufficiale dell'attuale patronna del Palermo, Maurizio Zamparini, in merito alla chiusura delle trattative. Abbiamo firmato un accordo per la cessione del Palermo, dichiara Zamparini nel comunicato, lo scorso 9 febbraio. Ad oggi non abbiamo ricevuto da Paul Baccaini nessuna variazione dell'accordo, né verbalmente né per iscritto. Rimaniamo in attesa di ricevere l'accordo finale entro il prossimo lunedì. Andiamo avanti con la nostra pagina sportiva. Il centrocampista ex Cosenza Caccetta è praticamente un giocatore del Catania. Si attende solo l'ufficializzazione, il secondo colpo dopo Lodi, ancora in mediana. A breve si attendono nuovi acquisti in difesa ma anche in attacco. Marco Carli. Prima è stato il turno di Lodi, adesso quello di Cristian Caccetta, altro centrocampista con diverse caratteristiche rispetto a Lodi. E' praticamente un giocatore del Catania, si attende solo l'ufficialità. Un altro rinforzo per la zona nevralgica del campo che nella stagione scorsa, complici scelte e soprattutto nel finale infortuni, non ha mai convinto appieno. Caccetta palermitano di Partinico vestirà dunque il rosso-azzurro dopo i sei gol segnati con il Cosenza di cui era capitano nella stagione scorsa. Ex Trapani, Caccetta ritorna dunque a giocare sull'isola. I tifosi sono giustamente attendisti dopo le recenti delusioni ma va detto che questo finora sembra l'avvio di estate migliore degli ultimi anni. Scongiurato nuovamente il problema Rinaudo, fondi disponibili per affrontare la stagione, possibile premio nel caso di cessione del Papu Gomez da parte dell'Atalanta. Insomma, è lecito credere che le basi per il rinancio possano essere emesse. Dalla prossima settimana il mercato entra nel vivo, oltre Caccetta pronto l'accordo con Alcibiade in difesa, nome caldo insieme a quello di Sainz Mazza esterno del Foggia che potrebbe prendere Russotto. Lucarelli avrà gli uomini che ha chiesto per il suo 4-3-3. Il 3-5-2 sarà l'alternativa, due moduli storici per il Catania degli Anni d'Oro. Adesso si prova a ripartire. Le formazioni siciliane di terza serie iniziano a gettare le basi per il nuovo anno. Non tutte però possono già pensare al mercato. C'è da risolvere prima problemi ben più importanti, come ci spiega Giovanni D'Antoni nel prossimo servizio di sport. Ai nastri di partenza della nuova e mai così ricca Serie C, che partirà il prossimo agosto, ci sono sei squadre siciliane. Rivalità, derby e tanta carne al fuoco, ma non tutte le siciliane possono già vantare un programma definito per la prossima stagione. E anziché parlare di mercato, si fa più riferimento alle difficoltà di iscrizione e ai problemi dirigenziali. Nella passata stagione più volte si è parlato delle difficoltà economiche dell'Akragas. Il club agrigentino ha scongiurato con sacrifici e cessioni illustri lo spettro del fallimento lo scorso inverno. Ma il rischio di arrivare senza fondi al prossimo torneo sussiste ancora ed è reale. Giavarini e Alessi hanno lanciato un pericoloso grido d'allarme. I tifosi protestano e invocano l'aiuto di imprenditori e rappresentanti politici per salvare una realtà calcistica che fino a pochi giorni fa festeggiava la salvezza. Situazione appesa ad un filo anche a Messina, sebbene l'avvento di Franco Proto abbia portato aria nuova in seno al club peloritano. Ottenuto il via libera per giocare al Celeste, adesso occorre superare lo scoglio iscrizione e pensare alla squadra. Ancora nessun nome per il tecnico, mentre sono già certi di partire i gioielli della Rosa. Dalla stella Milinkovic al terzino devito obiettivo concreto del Catania. Più semplici iniziare a parlare di calciomercato dalle parti di Siracusa, Trapani e Lentini. Gli azzurri hanno già individuato il dopo Sottil, da un siciliano ad un altro, il padron Cutruffo punta forte sul Raffaele di Napoli, attuale mister dell'Akragas. Ed è possibile che la prossima settimana possa già essere quella dell'accordo. Prima di agire in entrata, gli aretusei possono intanto festeggiare i rinnovi di Giordano e Turati, autentici pilastri della scorsa stagione. A Trapani ci sarà area di rivoluzione e si cercherà di sostituire i partenti Nizzetto, Rizzato e Casasola. Su di lui anche club di Serie B, con elementi esperti della categoria. Chiude il cerchio la Sicula Leonzio, che si sta dimostrando molto attiva in queste prime settimane. Si chiude a breve per Rigoli, che una volta firmato il suo contratto biennale, potrà scegliere i suoi primi tasselli. Chieste informazioni sul giovane attaccante Rossetti di proprietà del Catania. Mentre più di un interessamento si è registrato per Fabio Longo, capocannoniere di Serie D con la frattese. E adesso la scherma si chiude con un bottino di 11 medaglie. La spedizione azzurra agli europei in Georgia è il migliore risultato per l'Italia nella rassegna continentale. Allora sentiamo ancora Giovanni D'Antoni. Un bottino ricco è l'ennesimo segnale di grande forza alla scherma mondiale. E' un bilancio nettamente positivo quello che la nazionale italiana di scherma porta a casa dai campionati europei svolti a Tbilisi in Georgia il record di medaglie in competizioni continentali per gli azzurri. Con l'ultimo argento nella sciabola maschile ottenuto dal quartetto azzurro, Samele, Curatoli, Berre e Montano, la delegazione italiana conclude in vetta nel medagliere e supera il proprio miglior risultato assoluto ottenuto nella spedizione inglese del 2011. Tante le note liete in questi europei e ancora protagonisti gli atleti siciliani. Il primo acuto è stato quello dell'oro olimpico Daniele Garozzo, che si è laureato campione d'Europa nel fioretto maschile, battendo in semifinale l'altro siciliano Giorgio Avola, che si è assicurato un ottimo bronzo. Il catanese Paolo Pizzo è poi salito in cattedra nella seconda giornata, bissando l'argento europeo nella spada. Sugli scudi la trapanese Gulotta nella sciabola squadre femminile, mentre solo rammarico per l'altra grande attesa, la vice campionessa olimpica Rossella Fiammingo, apparsa in ombra nella spada e fuori dal podio. Quattro ori, tre argenti e quattro bronzi. Little Scherma festeggia l'ennesimo trionfo. Gli atleti siciliani mettono in mostra il loro talento anche in questa competizione. Era l'ultima notizia. Il telegiornale si chiude qui. Grazie, come sempre, per essere stati con noi. Io vi auguro di trascorrere una buona serata e una felice notte. Grazie. 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 Grazie.